Dobbiamo lavorare insieme, continuare a collaborare nel percorso di convivenza che abbiamo avviato con successo in Trentino per affrontare uniti le tensioni che emergono dalla situazione di crisi economica e per contrastare gli estremismi che rischiano di nascere in questo momento storico. Lo ha detto l'assessore provinciale alla solidarietà internazionale alla convivenza, lì a Beltrami-Giovanazzi, incontrando le associazioni dei cittadini immigrati in occasione delle festività presso la sala SOSAT a Trento. L'incontro è stata l'occasione per uno scambio di auguri e per parlare insieme del cammino di convivenza che rende il Trentino un modello avanzato. Un cammino che prosegue, grazie anche all'imminente ristesura del piano convivenza e al costante impegno delle istituzioni trentine in questo settore. L'incontro ha visto anche l'intervento dei presidenti della SAT per Giorgio Motter e della SOSAT Luciano Ferrari, del coordinatore del Cinformi Pierluigi La Spada, del sindaco di Carzano Cesare Castelpietra, originario dell'Eritrea e del consigliere comunale di Mezzo Lombardo, con delega alla partecipazione e rapporti con i cittadini e trasparenza Tania Vukic. Due percorsi, quelli di Cesare Castelpietra e Tania Vukic, che testimoniano l'impegno degli immigrati per la loro nuova comunità e che dimostrano che il Trentino, terra di accoglienza, sa valorizzare i nuovi cittadini. Un'accoglienza per la quale le associazioni di immigrati hanno voluto ringraziare i trentini, l'assessorato e il Cinformi per un approccio all'immigrazione, hanno detto i nuovi cittadini, unico in Italia. Durante l'incontro è stata presentata anche la pubblicazione con tutti i riferimenti delle associazioni dei nuovi trentini attive sul territorio provinciale. Uno strumento è stato detto che darà visibilità alle associazioni e che riconosce l'impegno di queste realtà della comunità trentina.